qui è la zona della zampa di cavallo ciampa di cavallo il rione vicino alla ciampa di cavallo ciampa di cavallo è questo vedete questo guardate un silenzio non spara quasi nessuno eppure mancano sette minuti vediamo c'è crisi crisi ragazzi crisi non ci sorprendiamo di nulla niente guardate mancano sei minuti tutto tace pochissime persone sparano con i colpi di pistola tico il fucile la zona di via marconi niente tutto tace mancano sei minuti tutto tace guardate lo scorso anno c'erano un sacco di fuochi d'artificio a salutare il 2012 tutti avevano paura di questi maio ma la vera paura è stata il governatore monti alla presenza del consiglio dove tutti sono tutti un po da ridire vediamo un po giriamo da questa parte ecco si sta avvicinando la mezzanotte questa è la zona di capizzaglio è la zona di fuochi sono della chiesa mancano sei minuti qualcuno spara guardate manca pochissimi minuti pochissime pochissime per famiglie sparano ecco qualche palle di fuoco sono più a sud verso capizzaglie che verso nicastro centro sono revolverate sono più a sud guardate nei comuni vicino quella siamo la sopra siamo a caraffa credo venate mai da caraffa i fuochi stanno dalla parte sud della mezza verso sopra niente vediamo niente niente guardate sono rimasto davvero spiazzato da questa vediamo ci stanno delle lucine in aria e ora che fanno fuochi d'artificio con le luci galleggianti nel cielo guardate un altro tipo di fuoco d'artificio stanno in cielo che si fermi guardate mancano tre minuti a mezzanotte guardate guardate da una parte forse magari sparare no ma i fuochi d'artificio non aspettavo ecco ecco qualcosa arriva dalla zona degli OBS mancano due minuti ecco se le sono conservate tutti gli altri anni magari c'era più sciupio bella risponde manca un minuto pochissimi fuochi pochissimi fuochi a salutare il 2013 manca un minuto ho il mio telefonino eh mamma mia che forchi di revolver mezzanotte buon anno a tutti speriamo bene buon anno a tutti la mezzia saluta così il 2013 mezzanotte adesso e si alzano i fuochi sulla città ho paura che qualche colpo di pistola mi arrivi addosso che sono tutto in terrazzo ecco adesso sparano tutti devo stare un po' più lente a coprirmi sono molto alto vedete mezzanotte sparano tutti mezzanotte sparano tutti guardate anche da fronti qualche fuoco si vede da fronti una frazione di una mezza quella è la zona dello stadio dove stanno facendo quei fuochi andiamo più a sud adesso non posso espormi molto il terrazzo per evitare un pochi proiettili elevaganti questo è quello che si vede dal terrazzo questa è zona che è pizzaglia eh è un po' più non 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 Andiamo al nord di nuovo, andiamo verso il centro di Nicastro, la mezza termine di Nicastro. Ho paura da Viano, con tutte le ste botte. E' spaventare questo revolver, ci fa venire paura. Ecco, cominciano ad accuidarsi. Speriamo che nessuno si faccia male, in primis io. Pieno di fumo, la città... Ma chi sta urlando? C'è solo... C'è solo... C'è solo... ... 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